La Juventus per riprendere la corsa interrotta contro il Catania, la Sampdoria per la prima vittoria in questo campionato e un quarto ultimo posto da lasciare in fretta. Amici sportivi inizia la quinta giornata di campionato e inizia dallo stadio Luigi Ferraris da Marassi. C'è Sampdoria e Juventus, un grande appuntamento e il saluto vi arriva da Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Parte Del Piero con il destro, respinge in qualche modo Mirante, Sissoko, anzi Paulsen col sinistro, prova il tennese, pallone alto. Sissoko, attenzione possibilità, c'è Mauri sulla sinistra, avanza Sissoko, sceglie Del Piero, buona la finta, Del Piero, palo esterno, grande occasione per la Juve. Stanchevicius ha girato molto bene. Andrà Palumbo probabilmente, invece parte Cassano direttamente in porta, pallone che esce non di molto. Calcio d'angolo, tutti pronti a saltare, vedete del vecchio che viene controllato dal Chiellini, pallone dentro, colpo di testa, pallone che esce di nulla. San Marco. Attenzione Nedved, carica il destro, pallone alto, sopra la traversa. E' pronto Stanchevicius, la battuta del lituano. Dentro, a cercare la testa di Bonazzoli, De Sena, Manninger. Lancio lungo di Manninger, non c'è più tempo per Rizzoli, finisce 0-0 tra Sampdoria e Juventus. Non succedeva dal 4 marzo del 90 qui a Genova.